pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati la seconda domenica dopo natale ci viene riproposto il prologo del vangelo secondo giovanni che ci aiuta a contemplare il mistero che abbiamo celebrato giovanni mediante quest'inno meraviglioso canta e coinvolge nella meraviglia dell'incarnazione in principio era il verbo il verbo era presso dio e il verbo era dio e il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi noi abbiamo contemplato la sua gloria che mistero d'amore grande non solo miei cari il prologo oltre ad introdurre e quasi a sintetizzare l'intero vangelo ci dice cosa avviene in chi accoglie gesù e ascolta e legge il vangelo con apertura di cuore in particolare due punti primo la parola di dio fatta carne in gesù ci rivela il vero volto di dio secondo la parola di dio come si è fatta carne in gesù così continua a farsi carne anche in noi dandoci il potere di diventare figli di dio vediamo un po primo punto al versetto 18 leggiamo dio nessuno lo ha mai visto proprio il figlio unigenito che nel seno del padre lui lo ha rivelato ecco qui abbiamo un verbo particolare il verbo exegeo mai che indica lo spiegare il verbo da cui viene il termine esegesi tirar fuori ecco gesù ci rivela fa l'esegesi ci narra il volto di dio perché è importante lasciare che il vangelo evangelizzi l'immagine che abbiamo di dio perché vedete dall'immagine che noi abbiamo su di lui dipende la qualità della nostra vita e il tipo di relazione che abbiamo con lui e anche con gli altri facciamo due tre esempi se io penso che dio sia una sorta di poliziotto giudice il cui unico compito è garantire il rispetto della legge e se ciò non accade arrivano sanzioni e castigli chiaramente non vivrò una fede liberante ma vivrò un rapporto con lui abbastanza opprimente in una continua paura del giudizio negativo e tra l'altro questo non mi aiuterà ad essere meno giudicante nei confronti degli altri anzi se io penso che dio sia una sorta di assicurazione contro gli infortuni o nella migliore delle ipotesi una sorta di bancomat dove io metto la moneta della preghiera della buona prestazione e lui in cambio mi offre grazie e protezione chiaramente non vivrò un vero rapporto d'amore con lui ma sarà più una relazione quasi a pagamento quest'idea verrà meno e crollerà quando nonostante i miei pur lodevoli tentativi si affaceranno prove sofferenze e difficoltà andrò in corto circuito e i conti non torneranno più se io penso che dio siano le mie emozioni i palpiti del cuore o gli sfarfallì interiori chiaramente andrò in cerca a destra e sinistra di esperienze forti ma non lascerò che la sua parola si radichi nel cuore né tantomeno questo tipo di fede coinvolgerà tutta la mia vita e le scelte di vita gli esempi li potremmo moltiplicare ma capiamo bene seppur nella semplicità che dall'idea che abbiamo su di lui dipende la qualità della nostra vita che dio ci ha rivelato gesù lungo tutto il vangelo gesù ci ha parlato del padre di un padre la cui tenerezza infinita la cui cura immensa la cui provvidenza si prende cura anche degli uccellini anche delle più piccole creature un padre fedele sino alla fine che non abbandona suo figlio nemmeno nell'ora della prova e della morte un padre la cui forza e dolcezza è capace di liberare il cuore dalle paure dalle ansie e dare la forza di compiere il bene altrimenti impossibile con le sole proprie forze un dio che nella persona del figlio si è fatto nostro fratello si è fatto piccolo per salvarci per stare con noi e in noi che ci mostra la qualità più alta e bella della vita vissuta fidandosi del padre e donandosi agli altri un dio che nella persona dello spirito santo si fa più intimo a noi di noi stessi che viene a divinizzarci quanto bisogno abbiamo di lasciare che l'amore di dio e la sua vera immagine penetrino in noi per cambiare noi secondo punto la parola di dio viene per farci figli di dio a quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di dio a coloro che credono nel suo nome i quali non da sangue né da volontà di carne né da volontà di uomo ma da dio furono generati a colui che accoglie la parola a colui che accoglie segue gesù è dato il potere di diventare figlio di dio gesù infatti è venuto a salvarci e chi crede in lui viene innestato in dio viene reso partecipe della sua vita divina come ci ha ricordato benedetto sedicesimo dio ha assunto la nostra umanità per renderci partecipi della sua divinità c'è qualcosa di immenso qui abbiamo il di più meraviglioso del cristianesimo mi cari noi possiamo vivere una vita meramente orizzontale mortale incastrati negli schemi acquisiti forgiati e orientati unicamente dalla cultura nella quale viviamo pur con buoni valori morali in quella che la struttura della nostra personalità in balia della nostra volontà oppure aprirci ad una vita soprannaturale ad una vita che viene dall'alto ci offerta una possibilità meravigliosa vivere in comunione con dio lasciandoci guidare forgiare dalla sua parola diventando capaci di amare come lui simili a lui in un cammino di maturazione di formazione di trasformazione che si alimenta con la preghiera nutrendoci del vangelo attingendo alla grazia dei sacramenti vivendo la carità fino a poter dire con san paolo non sono più io che vivo ma è cristo che vive in me ecco a colui che accoglie la parola è dato il potere di diventare figlio di dio perché potremmo dire che l'uomo diventa la parola che ascolta noi in un certo senso siamo anche il frutto delle parole che abbiamo ricevuto le nostre convinzioni su noi stessi sul mondo sono anche frutto delle parole che immagazziniamo che facciamo nostre si racconta che l'imperatore federico secondo di svevia volle fare un folle esperimento lui che era esperto di tante cose anche di lingue voleva sapere quale fosse la lingua originaria dell'uomo allora tra virgolette molto scientificamente prese sette bambini appena nati li diede a sette nutrici dando loro l'ordine di dargli solo da mangiare senza parlargli quando sarebbero diventati grandi la lingua con la quale si sarebbero espressi sarebbe stata quella originaria dell'uomo sapete come finì che purtroppo questi bambini morirono con una forma grave depressiva perché perché l'uomo vive d'amore vive della parola potremmo dire non di solo latte vive il bambino ma anche di ogni parola che esce dalla bocca della mamma della tenerezza che esce dal cuore della mamma cioè la parola è ciò che dà forma all'esistenza dell'uomo la parola di dio ci plasma a somiglianza di dio ci dà la sua forma il suo modo di pensare il suo modo di agire questa parola mi fa diventare progressivamente più luminoso più vero perché la parola ci trasforma santa teresina diceva che amava molto leggere i libri di spiritualità ma quando la sua anima aveva sete aveva necessità cercava risposte andava al vangelo e lì trovava tutto chissà che posto ha la parola di dio e la meditazione del vangelo nelle nostre giornate cari fratelli e sorelle apriamoci a tanta bellezza che in gesù e nella sua parola ci viene offerta affinché possano essere rischiarate le nostre tenebre interiori sciolte le nostre paure consolate le nostre solitudini lenite le nostre afflizioni lasciamo che la tenerezza di dio la percezione della sua paternità penetrino sempre più nel nostro cuore e mi piace concludere con le parole di maister eckhart che diceva dopo il suo natale e ora il tempo del mio natale cristo nasce perché io nasca nasca nuovo e diverso nasca figlio il verbo di dio è come un seme che genera secondo la propria specie dio non può che generare figli di dio perché dio si è fatto uomo perché dio nasca nell'anima perché l'anima nasca in dio che il buon dio vi benedica a tutti pace e bene